gentili telespettatori buona giornata enrico letta sta peggiorando dice che l'obiettivo del del centrodestra è cacciare mattarella diciamo che certo le esternazioni di salvini e berlusconi non aiutano non aiutano un eventuale governo meloni perché salvini e berlusconi ogni giorno ne tirano fuori una che va a nozze con quello che la sinistra si aspetta proprio delle dirichiarazioni di questo tipo vi ricordate che berlusconi mattarella dovrebbe andarsene se passa il presidenzialismo lo diceva berlusconi ovviamente perché lui vuole fare ancora presidente della repubblica dice di no ma la realtà che vuole fare il presidente della repubblica e spera che mattarella di alle dimissioni allora cerca di di ricordargli che potrebbe andarsene via per per essere eletto lui ma poi tra parentesi siamo così sicuri che gli italiani scelgano berlusconi come presidente della repubblica se vanno alle urne ma ne siamo così sicuri non credo proprio è non credo proprio che riesca ad avere la maggioranza degli elettori per andare al quirinale con un'elezione diretta ma comunque torniamo a letta che dice il loro obiettivo è cacciare mattarella vogliono mandare a casa sergio mattarella un sempre più in difficoltà enrico letta sta lui è intervistato dalla stampa e afferma così tutta questa fretta questo ardore nascondono il vero obiettivo della destra mandare a casa mattarella berlusconi se l'è lasciato sfuggire l'intenzione è chiarissima ma noi ci opporremo in ogni modo ma allora noi ci opporremo a una cacciata di mattarella anche qui sono parole elettoralmente avanvera perché nessuno può cacciare mattarella quindi letta che cosa si oppone a una cacciata di mattarella cioè cosa cosa secondo letta meloni salvini e berlusconi citofonano mattarella senti vai fuori scendi lascia la casa ti aiutiamo a fare le valigie devi andare via capite la la visione grottesca di letta di una destra che caccia mattarella e il pd capitanato da letta che farà di tutto per impedirlo capite che è una storiella ridicola senza senso l'unico che può mandare mattarella a casa e mattarella stesso che dà le dimissioni dicendo sono stanco eccetera eccetera cosa che si presumeva già quando è stato eletto che ci fosse un accordo detto non detto con draghi io vengo rieletto dopo un paio di mesi dopo un paio di anni quando il governo finisce io do le dimissioni diventi tu capo dello stato ecco questo questo era questo era quindi mattarella realmente potrebbe anche tra poco dire lascio perché sono stanco ma lascio perché perché lascia non perché c'è qualcuno che lo caccia quindi il il letta il difensore del quirinale fa un po ridere perché non c'è da difendere nulla e non c'è da opporsi a nulla se mattarella se ne vuole andare gli italiani se ci sarà il presidenzialismo eleggeranno e non credo proprio che gli italiani andranno una domenica a votare berlusconi presidente della repubblica non non credo è non credo però insomma tutto può essere quindi pertanto mandare a casa mattarella se mattarella dovesse dare le dimissioni non credo che il centrodestra sia scontento ecco si andrebbe subito a provare la nuova legge per eleggere il capo dello stato gli italiani verrebbero chiamati alle urne quindi niente di più democratico che non fare leggere il presidente della repubblica di nuovo a salvini eletta perché salvini sarebbe capace di mettere un altro di sinistra ecco diciamo che realmente la riforma presidenzialista in italia sarebbe aumentare la democrazia perché permettere gli italiani di andare ad eleggere il presidente della repubblica sarebbe fantastico no secondo me gli italiani dovrebbero eleggere non il partito ma dovrebbero eleggere il premier però questo chissà comunque ovviamente la riforma in senso presidenzialista dell'italia non è solo l'elezione del presidente della repubblica il presidente della repubblica diventerebbe una sorta di capo del governo una sorta di diverso diventerebbe qualcosa di diverso il presidente della della repubblica che ovvio all'inizio andrebbe in un controsenso incontro un incontro un controsenso perché avremmo un presidente della repubblica che si comporterebbe come un capo del governo ma ci sarebbe un capo del governo in carica con altre funzioni quindi bisognerebbe poi aspettare credo la fine della legislatura per poter fare entrare in funzione esattamente il nuovo presidente della repubblica è tutta una riforma che credo proprio che ne parleremo a lungo dopo il 25 di settembre vedremo quello che succederà se si andrà a fare una riforma costituzionale del presidenzialismo vedremo che cosa succederà vedremo realmente come si comporterà la finanza internazionale vedremo un governo meloni quanto durerà se durerà cinque anni se qualcuno si metterà davanti al loro cammino l'economia la finanza salvini e berlusconi vedremo vedremo che cosa succederà però finalmente avremo un governo eletto dopo dieci anni di governo del pd senza aver vinto le elezioni maletta reputa il presidenzialismo una scorciatoia insidiosa e aggiunge il mondo populista di dire ai cittadini guardate le cose non vanno bene datemi tutti i poteri in mano e risolvo io la verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l'alibi perfetto per non farlo ma secondo me letta continua a dire parole a vanvera nel senso che tutti questi attacchi che fa verso il centrodestra non hanno consistenza sono immateriali inconsistenti di tutte le 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 paure che lui esterna se vincono loro succederà questo questo e quell'altro non c'è una sola cosa che abbia delle delle radici solide che sia veramente una paura semplicemente un governo eletto dagli italiani assolutamente democratico con delle visioni diverse dalla sinistra dove non c'è nessun pericolo né per l'italia né per l'europa né per il mondo ecco però la narrazione della sinistra è questa stanno tornando arrivederci a tutti e grazie